Ciao a tutti, io sono il D-Landrofilo. Oggi recensione dell'album in sile numero 143, Apocalisse, che possiamo trovare anche all'interno della grande ristampa numero 48. La copertina di Corrado Roy va ad omaggiare questa storia. Devo dire che il disegno è molto buono, fa anche un certo effetto, crea anche un notevole impatto. Qui il demone di turno è stato disegnato in maniera più che altro statuaria, vedete, sembra quasi cementificato, mentre D-Land è stato proposto abbastanza bene, forse solamente un tronco leggermente largo, ma nulla di trascendentale. Invece, Angelo Stano mi è piaciuto di più, perché va a proporre invece un demone più verosimile, quindi non sotto forma di statua, fra virgolette, ma più in carne e ossa. E il disegno qui risulta veramente preciso e più elaborato rispetto a quello offerto da Roy. Due punti di vista da due artisti differenti, io questa volta mi ritrovo più nel tratto di Stano. Testa sceneggiatura di Tiziano Sclavi, disegni di Casertano. Di che cosa parla questa avventura? Abbiamo Dylan che rimane rinchiuso insieme ad altre persone in un ospedale maledetto. Ecco, la trama forse non è brillantissima, non sarà originalissima, è stata proposta varie volte in diverse salse nel mondo di D-Landog, ma comunque avrà un suo perché. La caratterizzazione dei personaggi sarà sempre molto buona. Da cosa si riconosce una storia di sclavi e da quale elemento si differenzia rispetto agli altri? Dalla vena comica, qui ci sarà da morire e da ridere in determinate situazioni. Tiziano Sclavi doveva fare il comico anche e soprattutto, oltre allo scrittore, doveva fare il cabaretista, perché insomma crea determinati contesti dove la larità ne fa da padrone. Comunque, avremo anche Madame Trelkowski, quindi un personaggio veramente interessante, integrato bene in questa avventura. Graucio sarà a sua volta ben costruito in questa situazione, quindi andrà a comporre anche in maniera decisiva il finale di quest'albo, quindi Graucio che ricopre un ruolo molto importante, non vi voglio spoilerare oltre, ma cosa succede nel mentre? Tutti sono rinchiusi e inoltre c'è un prete pazzo che vuole scatenare un virus, ha in mano diciamo un virus, vuole sottomettere il mondo e lanciare questa pericolosissima bomba chimica. E mentre sono tutti rinchiusi, mentre c'è anche il prete che fa il terrorista, c'è anche un bambino dotato di poteri paranormali che farfugliando frasi a caso o forse no, riesce ad evocare le forze del bene e del male, quindi un pasticcio unico che troveremo all'interno di questa avventura. Devo dire la verità, ad un certo punto della lettura si perde un po' il filo, Tiziano Sclavi tendenzialmente confusionario, non sempre, di solito i suoi albi risultano molto puliti, ben leggibili, ma in questo caso si fa un pochino di confusione, come da lui stesso affermato in alcune interviste, alcune volte Sclavi diceva io stesso quando rilego i miei albi e non ci capisco niente. Ecco, in questo caso, in questo albo, arriviamo ad un certo punto che queste tre situazioni vanno a mischiarsi fin troppo tra di loro, si crea un pochino di confusione, ma nulla di drammatico perché comunque la storia si risolleva sul finale che va a chiarificare il tutto. I disegni di Casertano sono ottimi, come al solito, abbiamo in determinati contesti dei volti veramente molto, diciamo, espressivi, Dylan avrà il suo classico profilo greco con questo naso aquilino, diciamo che il tratto caricatoriale di Casertano viene evidenziato ancora una volta in questa avventura. Cosa intendo per tratto caricatoriale? I classici stereotipi del drogato, piuttosto che della drogata di turno, i loro volti, la loro espressività e proprio la loro conformazione viene accentuata e resa quasi appunto una caricatura. Adesso vado a pescarvi magari una vignetta, vedete qui questi drogati, come assumono queste forme molto rotonde, molto accentuate e sembrano quasi dei peperoni, diciamo, i peperoni con quel tratto molto arrotondato, molto gonfio. Comunque, tutto sommato, uno stile di disegno del genere in questa avventura è comunque molto buono, quindi Casertano ha un suo stile di disegno molto particolare, però comunque a me è sempre piaciuto, poi sono questioni di gusti personali. Il lato positivo è che l'artista riesce comunque ad interpretare una non facile sceneggiatura proposta da Sclavi, molto indicata, che propone in ogni vignetta situazioni sempre differenti, quindi tutto sommato, complimenti a tutte e due, per una storia che come voto finale si prende un 8. Ultimamente, se ci fate caso, nelle ultime recensioni, tutti gli albi che mi passano sotto mano, 8, 8, 8, 8. Dovrei un pochino variare il voto, ma diciamo che in questa occasione, ancora una volta, anche quest'albo si becca un 8. Per il momento è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta, condividila dove vuoi, iscriviti al canale YouTube del Dilan Dogo, è importantissimo per manere sempre aggiornato sul personaggio di Dilan Dogo, oppure così mi arriva il feedback positivo e capisco che ti piacciono i miei video e vado avanti a farli, e noi ci vediamo in una prossima recensione dedicata al mondo del narratore dell'incubo.